salve a tutti bentornati a main cathedral per simply china come sapete il lunedì giornalmente eh abbiamo una live tutti insieme eh con gli altri del gruppo insomma eh per parlare di vicina gli altri non sono disponibili però insomma non volevo saltare anche questo questa settimana l'appuntamento visto che eh per le vacanze insomma ci siamo dati un po' alla macchia proprio per questa rubrica allora eh volevo parlare di un argomento molto interessante secondo me importante eh per una certa visione si sta parlando di un tentativo di colpo di stato contro Xi Jinping contro l'attuale governo e e con insistenza di una lettera firmata dai principali eh ti chiamano principini sarebbero i i discendenti diretti e coloro che comunque fanno parte del del Parlamento i discendenti diretti di chi ha fatto la rivoluzione industriale è un principino fa parte del di questo gruppo di questa elite e e sono tutti insomma a quanto pare mh contro di lui e mi hanno fatto questa lettera per criticarlo eh sul canale americano gestito eh da una sinoamericana insomma non è americana credo che tornerà mai più considerando come parla del della Cina in in Cina a me finché c'è Xi Jinping e lei lei's real talk molto interessante insomma volevo riprendere una parte del del video che ha rilasciato per tradurlo per l'audience italiana e spiegare cosa penso io di questa situazione ehm lei praticamente cita come fonte e poi ne parlerò anche nel dettaglio eh un professore ecco qui un attimo che preparo il professor Yuanong Bin e lei dice ecco questo professore era un ex amico di Xi Jinping compagno di bevuto di Xi Jinping e ha riportato questa notizia adesso vi faccio ascoltare vi faccio anche la traduzione non so se riuscite a vedere un attimo ok sì vedo che si riesce a vedere allora lo faccio partire e vi dico parla della sorveglianza sulla tutta la la società ha bloccato l'accesso alle informazioni ai cinesi la solitazione ha arrivato non è arrivato il resto del mondo e non può chiudere le porte ogni anno un numero di cinesi vanno all'estero per business school scuola alcuni coscienti del del partito comunista hanno portato queste informazioni fuori dalla Cina hanno preso un grande rischio in questa maniera queste informazioni hanno lasciato la Cina sono arrivate queste informazioni alla fine di ottobre abbiamo verificato usando i nostri metodi che non si dopo questo gruppo di principine si sono d'accordo a forse alla dittatura di si cipin perché lui yuan e altri principini rischiano di attaccare internazionale come il gruppo dei princelin che è legato agli yuan ha avuto questo tipo di esperienza della rivoluzione culturale infatti i suoi i loro genitori sono stati deportati da mao che questo è importante uccisi quindi hanno concluso che si cipin ha riusato lanciare una persecuzione per punire loro e quindi ha scatenato la furia del partito la comunità internazionale che loro hanno intenzione di opporsi a Xi Jinping e sono pronti di agire in questo consenso ok grazie lei metterò il link al suo canale a questa questa live nella nella specifica ci sono delle cose che dobbiamo dire allora ok quello che fondamentalmente ha detto che loro hanno scoperto non ha specificato come che però ci sono altri altre informazioni altre informazioni a riguardo altre prove no prove proprio no devo dire non ci sono prove a riguardo che si è rappresentanti del governo si sono opposti a Xi Jinping appunto come come vi ho detto e hanno intenzione di fare qualcosa contro di lui e la motivazione è che Xi Jinping ha isolato la Cina a livello economico e tenuto all'oscuro i propri abitanti e questa cosa era questo tipo di situazione era molto vicina a quella che era avvenuta ai tempi di Mao Zedong quando i genitori di Costoro erano stati perseguiti allora è possibile quello che che viene detto è vero mi chiederete insomma è vero che si sta tramando contro Xi Jinping ehm è vero che è stata fatta una lettera è vero che questi eh principini hanno intenzione di fare un colpo di stato contro Xi Jinping beh non possiamo dire che che intenzioni abbiano proprio perché generalmente non vengono dette queste cose cioè la cosa più strana di questa affermazione che probabilmente non è vera è eh lì lei è d'accordo nel dire che effettivamente questa lista è inverosimile ma io darò le mie motivazioni lei dalle sue io ho un'idea diversa prima di tutto vabbè non ha assolutamente alcun senso avvisare prima che si sta facendo un colpo di stato in questa maniera poi mi sembra proprio surreale ehm tra l'altro noi stiamo parlando di gente che ovviamente ha molti privilegi ha molti privilegi rispetto alla popolazione cinese quindi non è un po' per rigar bene la solare male ma questa è gente che effettivamente non ha un vero potere è vero che ultimamente Xi Jinping ha fatto molte purghe eh quella probabilmente più importante è del ministro della difesa perché si è detto insomma un abbiamo parlato anche qui nel nel canale la paura di Prigoggi in realtà proprio il fatto che Xi Jinping voglia qualcuno di cui si può fidare alla difesa vuol dire che vuole tenersi buono l'esercito se Xi Jinping ha buono l'esercito si tiene buono l'esercito può stare abbastanza tranquillo eh perché in colpo di Stato si fa con l'esercito cioè come posso fare questo colpo di Stato in che maniera? L'altro hanno citato il fatto che eh Xi Jinping ehm si stia comportando come Mao per l'epurazione però eh bisogna dire che bisogna ricordare che anche il padre il padre stesso di Xi Jinping fu ehm cacciato e perseguitato da Mao Zedong quindi insomma fare questo parallelo secondo me è più una forma offensiva nei confronti di Xi Jinping che effettivamente qualcosa di 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 reale che 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 possa effettivamente effettivamente succedere una cosa importante che devo dire a riguardo è che questo professor Yuan Hongbin viene presentato da lei come un vecchio amico scritto anche nella descrizione ex amico di Xi Jinping no non so dove abbia preso questa informazione non mi risulta eh a me mi risulta che questi sia un dissidente che ha anche scritto un libro per accusare ehm per accusare il partito governo cinese di aver tentato di uccidere il pancet lama comunque non è qual è qualcuno dal quale ti questa è una fake news sì può anche darsi che qualche volta abbia bevuto con Xi Jinping è una persona vicina a determinate realtà del eh del governo cinese tuttavia no non non è una persona non è un amico di Xi Jinping cioè è un dissidente è qualcuno dal quale ti aspetti che arriva una eh notizia del genere eh quindi praticamente questo sembra eh un eh un colpo di stato basato sul nulla eh immaginate insomma come è un italiano si vede che ci sono delle pressioni intorno al presidente Meloni se noi vediamo lo scherzo colpito il marito Gian Bruno eccetera eccetera ma in realtà e questo fa intuire che ci sono delle pressioni interne eh ma che sia esplicito così che scrivano non non credo in realtà che sia possibile insomma viene citato più volte Bosilai che è in galera e che è colui che ha tentato il primo colpo di stato contro Xi Jinping e Xi Jinping ha già esperienza da questo punto di vista noi abbiamo già parlato del canale e mh è un colpo di stato si crea creandosi un proprio esercito cioè c'è bisogno di avere un esercito allora cosa c'è secondo me di vero in tutto quello che si dice cioè anche la più grossa fake news è basata su qualcosa di reale qualcosa di reale potrebbe essere che magari esiste una lista firmata cioè la cosa reale è che esiste un malcontento si percepisce un malcontento nei confronti del governo attuale per la scelta di rivoluzionare completamente la struttura del 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 governo che include il sacrificio all'economia un sacrificio che è pari al 60 per cento considerando che la media della crescita era dell'11 per cento e adesso siamo meno del 5 per meno del 5 per cento quindi vuol dire che sono tutti incazzati cioè obiettivamente questa è la verità è comunque una crescita che è molto maggiore rispetto normalmente a quello che si vede in in altri paesi incluso l'italia che cosa quindi se vediamo nel nella lista dei paesi che sono cresciuti più al mondo quest'anno la cina compare tra ancora tra i paesi cioè come se che ne so ma la juve ha vinto 20 partite 4 a 0 a stavolta ha vinto solo 1 a 0 2 a 0 si ma ha vinto comunque questo per dire che però è vero che ci sono problemi con l'economia internamente perché si è reso tutto molto complicato e la percezione della gente è che non sappia bene quello che fa a livello economico insomma ci sia c'è un po' di trambusto una cosa un po' strana è che effettivamente così velocemente così all'improvviso il presidente Xi Jinping abbia cambiato le cose e sia passato da un'immagine di successo a un'immagine meno importante insomma bisogna stare attenti anche io vivo a Pechino dire queste cose però è un po' questa la situazione però c'è anche da dire che Xi Jinping nel suo arco può vantare fondamentalmente una grossa vittoria insieme alla Russia infatti vi ho detto in passato che Putin viene visto molto bene però insomma Xi Jinping dovrebbe sottolineare che insomma lui ha giocato un gioco fondamentale da questo punto di vista che non lo può dire esplicitamente ma i cinesi lo sanno bene ecco quello che viene detto dal professore qui che il paese è completamente tenuto all'oscuro e isolato non è vero non è vero e la prova che avete che non è vero è che io vi sto parlando è ovvio che se uno arriva a creare ecco qual è la verità la verità è che sì l'intera popolazione è nervosa e arrabbiata probabilmente ci sono un sacco di persone verso il posto di lavoro e c'è un casino ovunque perché c'è una trasformazione discorso è che quelli che sono stati colpiti maggiormente sono i ricchi i ricchi e i famosi con una visione ideologica che non riesco a nella quale non riesco a trovare nessuna malizia perché si cimpine sta cercando di mettere delle regole che siano più giuste per tutti forse potesse potrebbero dire no ma non lo sa fare state fermo perché se fa solo danno però è al rallentato la crescita sta zittendo ecco e secondo me si cimpine ha un secondo me cioè è chiaro che si cimpina un proprio piano e basta deciso che questo piano lo deve seguire e chiaro che in particolare a discapito dei privilegiati infatti insomma la persecuzione dei non è che si cimpine non lo sapeva quando ha eliminato tutti quelli della fazione di gian zemin che ci sarebbero stati molti contro di lui è un atto estremamente coraggioso rivoluzionario è un atto non simile a ciò che può aver fatto mao zedong e nonostante insomma qui io sto sto dicendo cose che vanno contro quello che anche pensa l'opinione pubblica cinese cinesi per cui parli sottovoce però hanno una visione più oscura di questa situazione soprattutto perché sono focalizzati sull'economia vorrebbero che la gente vorrebbe che l'economia rimanesse come era prima e continuasse a crescere a livello che c'era prima con un'apertura che c'era prima questo è quello che stanno lamentando tutti invece dicono no stanno portando indietro ai tempi non vedremo insomma ve lo dirò a un ritorno a la situazione precedente a un tentativo di continuare e questo è un po' evidenze che c'è un po' di confusione di raggiungere dei risultati anche tecnologici senza averne conseguenze e questo implica che come se si stesse cercando di chiudere il paese a un periodo precedente che non può esistere ricordiamo che comunque si cipina a una certa età insomma non gioca alla playstation comunque questo è un aspetto possibile quindi è sicuramente molto probabile che tanti di questi principini si lamentino tra di loro ecco quello che può essere successo io questa cosa di scrivere la lettera me la ricordo una costituzione quando insomma la comunità ha dei problemi arriva una sorta di avviso è un avviso la sta gestendo come avete visto però quello che si nota io ho chiesto proprio riguardo è che vengono dati dei consigli dal governo ne abbiamo parlato anche poco tempo fa prima delle vacanze natalizie riguardo a questa presunta apertura riapertura parziale della cina per il business internazionale però nei fatti non è così è quello che non riuscivo a capire perché nei fatti non è così infatti non è così perché la gente perché la gente perché effettivamente non ci sono le condizioni ma perché la gente sta facendo il contrario di quello che dice il presidente e e questo è qualcosa che se tocca determinati ambienti potrebbe avere delle conseguenze potrebbe effettivamente avere delle conseguenze già il fatto solo che si parli di una cosa del genere ed effettivamente non è campato in aria cioè non è che di ma che cazzo cioè le cose che venivano dette su su Putin Putin sta per morire non è morto però come facciamo adesso erano o adesso lo vogliono uccidere la cosa vera è che sicuramente gli oligarchi e questa è la stessa situazione gli oligarchi sono molto seccati nei confronti perché hanno preso lo yacht e le case in Italia in questo caso però Xi Jinping non ha effettivamente fatto ancora nessun danno catastrofico cioè quello di cui viene accusato è che siano stati fatti danni catastrofici è vero che ci sono grandi critiche per quanto riguarda l'economia l'economia non è in cinocchio l'economia ha dei gravi problemi perché tendenzialmente tutti in particolare però con i cinesi i vestiti dei cinesi hanno paura non sono dei non rischiano normalmente tanto in una situazione del genere non so non bego se sta succedendo ma si ferma quello che dovrebbe fare secondo me Xi Jinping è capire che comunque deve creare le condizioni interne trampizzare la situazione interna per fare le cose perché sta bloccando anche internamente l'economia questo non va bene invece dovrebbe per fare in modo il problema è che il commercio per i cinesi è solo con l'estero cioè riuscire a fare le cose solo con l'estero film stranieri e tutto quello che è però è importante che ci sia effettivamente qualcosa che permetta di ristabilire il contatto tra il governo e la gente a prescindere dai principini da chi è stato iper privilegiato quello che secondo me sta succedendo quindi è che quindi si sta ristabilizzando un nuovo tipo di equilibrio nuovo tipo di equilibrio che potrebbe portare a una crescita ulteriore a una trasformazione del partito a delle riforme più social democratiche probabilmente a una Cina molto più simile a un paese occidentale per quanto riguarda la gestione interna quindi questo è un po' barra perché fondamentalmente distruggere la corruzione regolamentare tutti vuol dire fare le cose come si deve quanto più possibile e fare in modo che il paese possa andare avanti senza determinati non voglio dire crimini però senza irregolarità non voglio dire però vorrei dire compromessi senza determinati compromessi ecco quindi dobbiamo ancora scoprire effettivamente che cosa ha in mente Xi Jinping vero che c'è del malcontento non credo sia vero appunto come dicevo che c'è un colpo di stato in atto e c'è qualcuno che lo dobbiamo fare ma io posso dire per certo che l'intenzione della stragrande maggioranza della gente dei privilegiati ecco è quella di andarsene dalla Cina e questo crea in qualche modo una seconda generazione cioè se tanti cinesi se ne vanno perché vanno a portare i propri soldi all'estero e questa non è neanche una cosa che fa male per gli altri paesi poi si ricrea una situazione del genere in cui quelli che sono poveri adesso possono a poco a poco diventare ricchi a un certo punto avremo un bilanciamento di ciò ovviamente questo piano non ha tempo indefinito ecco vedremo vedremo io qui da Pechino dove vivo ripeto da più di dieci anni lavoro nell'hitech nel cinema fatto business con tutta l'Asia e fatto da Ponte con diverse compagnie ma soprattutto diverse compagnie all'estero con la Cina insomma differenza culturale ma soprattutto lavoro costantemente con i cinesi so come vuol cosa vuol dire lavorare insieme ai cinesi a di diverse categorie sociali o modo di parlare con gente vicina al governo con gente ricchissima modo di parlare con la middle class di cui faccio parte insomma diciamo modo di parlare anche con persone povere molto povere cerco di capire di percepire quello che succede mi sembra che la situazione sia questa sicuramente non tutti i cinesi se ne possono andare una situazione bisogna trovarla e l'equilibrio deve essere ristabilito non si vede gente morire per le strade sicuramente ci sono un sacco di problemi tanta gente sta perdendo il lavoro che cambiano case si trasferiscono da un'altra parte questo a cascata creerà insomma altri problemi insomma anche credo che vogliano spingere per abbassare i costi perché la speculazione la corruzione sono stati talmente selvaggi immaginate se l'italia da un momento all'altro dicono beh basta da adesso in poi veramente veramente non si evadono più le tasse veramente cacciamo dentro tutti i mafiosi veramente quando facciamo un appalto quello deve essere fatto altrimenti è andata a finire l'era immaginate che in italia succedesse una cosa del genere esplode il sistema quello che sta questo è questa trasformazione che sta facendo Xi Jinping è incredibile ma sta facendo esplodere il sistema per costruirne uno nuovo che secondo lui è più regolare ed è più non lo so non è simile alla Russia se noi lui ha un'idea che non è simile al Giappone non è simile alla Corea non ha quella influenza cioè è qualcosa di completamente nuovo è come se fosse l'Italia se fosse diventato un paese comunista non lo so vedremo comunque iscrivetevi al canale commentate fatemi sapere cosa ne pensate saluti a tutti grazie